il suono e la natura in fondo sono la stessa cosa perché se pensiamo che originariamente l'uomo ha creato degli strumenti perché è stata la natura stessa che ha ispirato e ha dato anche il materiale e i mezzi per costruire gli strumenti ha sempre affascinato il suono del vento che passa in mezzo alle foglie degli alberi e se andiamo a vedere il soffiato del sassofono ecco evoca il vento a A presto. La musica e gli eventi musicali devono sensibilizzare le persone perché quello che ci circonda è di vitale importanza per tutti quanti. Senza la natura non c'è suono e senza il suono non c'è vita. Grazie. A presto. 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 Grazie a tutti